Ben trovato al pubblico di Talk Sicilia, siamo in onda come sempre dagli studi di blog sicilia.it per parlare in questa fase di elezioni e continuare il nostro giro fra i candidati alla presidenza della regione che sono sette quelli ammessi, ne abbiamo già ascoltato alcuni. Oggi è il nostro gradito ospite, Nuccio Di Paola, candidato alla presidenza della regione del Movimento 5 Stelle. Un saluto a tutti e grazie per l'invito. Grazie a te per aver accettato il nostro invito e per essere qui a raccontare ai siciliani qual è l'idea della regione, di cosa fare per questa regione del Movimento 5 Stelle perché è questo il grande tema, quello che cerchiamo di fare, dare a chi dovrà andare a votare, tutti quanti noi, il 25 settembre, un panorama per poter scegliere il candidato che più è simile a quella che è la nostra idea di regione siciliana. Cominciamo evidentemente da un fatto oggettivo, dovevate andare insieme al PD, non siete andati più. Cosa è successo? È successo che le due strade si sono divise perché gli ex amici del Partito Democratico hanno scelto l'agenda Draghi, noi invece come Movimento 5 Stelle, e con il Presidente Giuseppe Conte abbiamo scelto l'agenda dei siciliani, l'agenda degli italiani, l'agenda del sociale. Stiamo vivendo una fase veramente critica, di cui in pochi raccontano, forse perché vivono in città come Roma o Milano, ma qui in Sicilia c'è una crisi veramente forte e allora noi vogliamo portare, stiamo portando un programma concreto che possa rispondere ai bisogni dei siciliani. Quindi le due strade si sono divise e noi continueremo con questo percorso che sono sicuro ci premerà. C'è un grande tema però, questa divisione è avvenuta in un tempo molto ristretto, già questa elezione in piena estate e con tempi di campagna elettorale molto stretti è difficile da portare avanti ed è avvenuta dopo primarie di coalizione che comunque vi avevano visto impegnati anche voi. Tutto questo non ha danneggiato tutti i componenti di questa coalizione? Ma credo che questa cosa è successa così in maniera repentina anche perché io voglio ricordare a tutti che il segretario Letta, se ne parla poco di questa cosa, il segretario Letta del Partito Democratico a livello nazionale ha deciso di intraprendere, non si è ben capito quale strada, e ha messo completamente, inizialmente voleva mettere completamente all'angolo il Movimento 5 Stelle e tutti i valori e tutti i programmi e le proposizioni che il Movimento 5 Stelle ha portato in questi anni. Ha poi cercato azione calenda, quindi non si è ben capito alla fine il Partito Democratico che cosa volesse proporre agli italiani e anche siciliani. Allora lì noi a un certo punto qui in Sicilia abbiamo fatto di tutto per cercare di capire se effettivamente il centro-sinistra siciliano voleva veramente dare una svolta, perché io ricordo sempre siciliani che 5 anni fa in questi 5 anni ha governato Musumeci col centro-destra, ma non dimentichiamo i 5 anni di governo Crocetta con gli stessi attori che oggi sono all'interno del Partito Democratico, quindi noi abbiamo presentato delle proposte nette, concrete, che dovevano dare, devono dare un taglio rispetto al passato, non abbiamo avuto delle risposte concrete, allora abbiamo deciso di fare la nostra scelta e di metterci dalla parte siciliani. Dentro il Partito Democratico sono successe un po' di guerra di intestine in questioni, però chi è andato via dal Partito Democratico non ha scelto di andare verso i 5 Stelle ma piuttosto verso Cateno De Luca. Dico, hanno fatto le loro scelte, infatti da lì si capisce pure la tribolazione che c'era all'interno del Partito Democratico. Il Movimento 5 Stelle è compatto, lo abbiamo dimostrato in questi giorni, noi ieri abbiamo fatto un incontro con tutti e 90 candidati, perché io ricordo che questa è la prima volta che il Movimento 5 Stelle oltre ad avere la lista regionale ha pure la lista nazionale, perché noi abbiamo candidato siciliani. Nelle nostre liste, nelle liste nazionali, vi troverete nomi di siciliani, a differenza di altri partiti di centro-est e di centro-sista, che hanno candidato gente di fuori Sicilia. Quindi noi abbiamo 90 candidati siciliani, nessuno è uscito dal Movimento 5 Stelle, e questo è importante, nonostante noi siamo stati coerenti con il nostro elettorato e con i cittadini, perché abbiamo rispettato, così come abbiamo sempre detto, anche se c'erano varie voci, varie provocazioni che arrivavano, il limite del secondo mandato. E anche i colleghi che hanno fatto i due mandati, ieri erano a Caltanissetta con noi, ad incitare e a fare squadra tutti insieme, per cambiare veramente la Sicilia. Ecco, questa era l'altra domanda, la domanda successiva, quello del doppio mandato che si è confermato come limite, ma che potrebbe essere, da una parte, anche un limite oggettivo all'azione, non solo elettorale, ma all'azione di governo, domani, se dovesse essere, o di opposizione. Assolutamente no, perché ieri erano con me, faccio solo alcuni nomi, ma erano veramente tanti colleghi che erano presenti, che hanno completato i due mandati, erano con me Nunzia Catalfo, che ricordo a tutti è stata Ministro del Lavoro, era presente con me Giancarlo Cancelleri, Vice Ministro delle Infrastrutture, e loro sono lì pronti, assieme a tanti altri colleghi, che non sto qui a citare, loro sono lì pronti a dare la loro esperienza, il loro contributo, la loro competenza, perché io questa cosa voglio ribadirla, perché all'interno del Movimento 5 Stelle, c'è gente veramente che in questi anni, grazie anche al voto che hanno dato i cittadini, ha aumentato ancora di più le proprie competenze, ed sono pronti a metterle a servizio della squadra del Movimento 5 Stelle e dei siciliani. Una scelta quella del candidato, Nuccio Di Paola, ma una scelta anche di tutti i candidati, che è stata fatta per effetto del poco tempo, in maniera un po' inconsueta, per il Movimento 5 Stelle, forse in blocco. Abbiamo fatto una votazione, io ricordo sempre che siamo gli unici che comunque votiamo i candidati, e ripeto, noi mettiamo siciliani candidati nelle varie competizioni, anche quelle nazionali. Abbiamo fatto sia la competizione, perché abbiamo fatto le parlamentarie, per quanto riguarda l'elezione nazionale, e lì si è votato, si è votato il singolo candidato, i nostri iscritti hanno potuto scegliere i loro candidati, poi con il discorso delle dimissioni del Presidente Musumeci, c'è questa election day, che è una grandissima opportunità, ma si è fatto il tempo in retta, si è corso, e allora poi noi abbiamo fatto un minimo di filtro sulle autocandidature, cercando di scegliere tra competenze e territorialità, in modo tale da dare voce a tutti i territori siciliani, e dopodiché li abbiamo pubblicati, anche per farli vedere all'opinione pubblica, perché noi ci teniamo a queste cose, perché può sempre arrivare una segnalazione per un candidato rispetto a un altro, li abbiamo messi in votazione, e io ricordo che sono stati votati da quasi in un giorno solo, e con pochissimo preavviso, da 4.000 iscritti, questa testimonianza, che l'entusiasmo in questi giorni, in queste ore, è dilagante, all'interno del Movimento 5 Stelle. Voi durante questo incontro avete lanciato anche, non so se definirla una provocazione, o una speranza, o come, ma ritenete da sondaggi interni di essere il primo partito in Sicilia, è veramente così, ci credete? Ma non sono solamente, io ci tengo a precisare che non sono i sondaggi interni che ogni forza politica fa periodicamente, ma sono anche sondaggi pubblici, l'ultimo sondaggio pubblico che risale a fine giugno del 2022, quindi stiamo parlando di un paio di mesi fa, sondaggio che è stato commissionato dal centro-destra, vedeva il Movimento 5 Stelle come il primo partito in Sicilia, il primo partito a circa il 22-23%, questo è un sondaggio di fine giugno pubblico che tutti i telespettatori, tutti i siciliani possono andare a rivedere, perché i sondaggi devono essere pubblicati su un sito, che è sondaggipoliticeelettorali.it, lì possono verificare tutti i sondaggi, ci davano come primo partito, perché io ricordo una cosa sempre, rispetto ai sondaggi che noi vediamo sul nazionale, il Movimento 5 Stelle ha fatto delle misure per il Sud e delle misure per la Sicilia, penso al Superbonus 110% che ha rilanciato l'edilizia e nello stesso tempo il lavoro nel campo dell'edilizia, che è uno dei motori della nostra regione per quanto riguarda il lavoro, penso al reddito di cittadinanza, sono tutte misure che la Sicilia ha colto pienamente, e se parliamo con qualunque sondaggista, non di patto ovviamente, ci dirà che rispetto al voto e alle percentuali nazionali, in Sicilia è tutta un'altra storia, e noi è questa storia che vogliamo portare avanti e in questo mese faremo di tutto, ma io sarò, ogni giorno farò almeno 4 eventi in giro per la Sicilia per raccontare questa storia. E questo si percepisce anche, chiunque segue i fatti della politica sa che il Movimento 5 Stelle in Sicilia ha un radicamento, ha una roccaforte diversa da quella che è il resto del Paese, e anche per questo ci si aspetta che in Sicilia arrivi il vostro leader, Giuseppe Conte. Sì, verrà e verrà a metà settembre, stiamo definendo il tutto e cercheremo di toccare quanti più comuni possibili, questo è perché ci crediamo fortemente, ma soprattutto perché vogliamo raccontare ai siciliani, assieme al nostro Presidente, le proposte forti e di rottura che vogliamo fare rispetto a quello che è stato i governi regionali che si sono succeduti. Uno fra tutti, lo voglio sempre ricordare, è il discorso della sanità. Noi abbiamo sempre detto che deve uscire la politica dalla sanità, la politica deve essere messa fuori dalla sanità. Sono tanti i politici che dicono questa cosa di qua, lo si dice sempre, ma noi abbiamo una proposta concreta. Vogliamo ridimensionare, ridisegnare le ASP. Non ci devono essere più le nuove ASP che sono in questo momento disegnate su collegi elettorali politici. E io voglio ricordare che in ogni ASP ci sono tre nomine politiche importantissime che sono il direttore, il manager dell'ASP, il direttore sanitario e il direttore amministrativo. Sono tre nomine, tre per nome fa 27, sono 27 nomine. Noi questa cosa la vogliamo ridurre in un'unica ASP, l'ASP Zero, che sarà l'ASP regionale perché sono convinto che la salute di un cittadino del comune di Messina che magari si trova sui Nebbi, rispetto alla salute di un cittadino che si trova al comune di Gela, piuttosto che Catania, piuttosto che Palermo, è la stessa. Cioè bisogna dare le stesse cure, ovviamente facendo rete tra le varie città, tra le varie ospedali, all'interno della rete sanitaria, ma non ci deve essere più la politica che si va ad innescare a fare da proprio bancomat elettorale sulla sanità. Questo lo dobbiamo togliere. Parliamo allora di programmi, visto che abbiamo lanciato questa prima fase della programmazione. Voi avete presentato innanzitutto, già quando eravate in partitiva con il PD, nove richieste forti, nove punti irrinunciabili, mi sembra che le abbiate definiti così a suo tempo. Penso che partirete da quelli e ricordaci quali sono. Assolutamente sì, uno l'abbiamo già detto che è sulla sanità, chi ci ascolta può anche immaginare cosa ci ha risposto il Partito Democratico su questa proposta, perché io ricordo che il centro-destra e il centro-sinistra hanno già governato la regione siciliana. Un'altra, proposta subito, forte, che faremo immediatamente, è il discorso dei rifiuti. Per cinque anni il governo di centro-destra non ha fatto l'impiantistica in Sicilia, diciamocela tutta, o comunque ha realizzato pochissimi impianti in cinque anni e negli ultimi mesi il presidente Musumeci con una diretta Facebook annunciava che avrebbe realizzato due inceneritori individuando già i territori, individuando già i comuni senza nessun confronto col territorio. Ebbene, noi quell'evidenza pubblica la ritireremo, perché non è con gli inceneritori che risolviamo il problema anche perché l'inceneritore parte che fa un danno ambientale enorme per quei territori che lo andranno ad ospitare e poi perché ci vorrà del tempo per costruirlo e non abbiamo noi tutto questo tempo. Noi vediamo i rifiuti in giro per le strade, soprattutto nelle strade delle città metropolitane. Noi vogliamo essere concreti, lo abbiamo sempre detto, abbiamo portato sempre avanti delle tematiche e delle proposte sul tema ambientale e rifiuti e quindi su questo la prima azione che faremo è il ritiro di questa evidenza pubblica e poi subito andremo a realizzare tutta quell'impiantistica distribuita, perché è importante fare un'impiantistica distribuita in giro per la Sicilia. E poi un altro dei temi fondamentali e sicuramente io lo voglio ribadire con forza perché se ne parla pochissimo, ci sono tantissime piccole aziende, piccole imprese che probabilmente da ottobre in poi chiuderanno la sala cinesca perché c'è un aumento enorme per quanto riguarda i costi della luce e del gas. Non ne parla nessuno, oggi addirittura sentivo parlare del ponte sullo stretto o di cose che oramai sentiamo continuamente cose non concrete. Oggi siciliano hanno bisogno di cose concrete e la nostra proposta è quella di inserire il reddito energetico. Noi vogliamo dare, prendere i soldi degli sprechi della regione siciliana e li conosciamo abbastanza perché abbiamo fatto dieci anni di esperienza, penso agli affitti regionali, penso anche a quella famosa tabella H dove ogni singolo deputato per ogni finanziaria cerca di mettere contributo a destra piuttosto che a sinistra mi sono fatto i conti velocemente ma adesso li stiamo facendo in maniera più accurata noi possiamo prendere 50 milioni di euro da questi sprechi subito e questi 50 milioni di euro li mettiamo a disposizione per realizzare un fondo di rotazione per il reddito energetico un fondo che permetterà ad ogni cittadino o alle piccole imprese di poter realizzare il proprio impianto fotovoltaico o eolico o minioolico o termico e da lì a zerare con se la bolletta e poi con i guadagni i guadagni vengono reinseriti tramite GSE quei guadagni vengono inseriti nuovamente nel fondo di rotazione e creiamo un percorso virtuoso che è già presente in altre regioni non ci stiamo inventando nulla stiamo soltanto prendendo soldi di sprechi della regione siciliana e li mettiamo a servizio dei siciliani questa è un'idea che man mano racconteremo durante questa campagna elettorale ed è un'idea concreta che permetterà ai siciliani di risparmiare in bollette e soprattutto alle aziende alle piccole aziende che sono quelle che in questo momento sono più in difficoltà quelle sotto i 15 dipendenti di poter avere di non chiudere le sale cinesche e andare avanti questo è un intervento però a medio termine probabilmente le aziende se si parla adesso con i piccoli impenditori con i bottegai con i panificatori ti dicono ma intanto nell'immediato come ci potete aiutare perché la chiusura è domani non è fra un anno ed è vero e nell'immediato ecco perché il nostro contrasto con l'agenda Draghi noi nell'immediato a livello nazionale abbiamo fatto delle continue proposte per calmierare i prezzi però dall'altra parte chi stava portando avanti l'agenda Draghi pensava alle armi ci sono state per mesi il dibattito pubblico si è concentrato su invio di armi sì invio di armi no quando noi invece continuavamo a fare proposte concrete perché gli extra profitti perché diciamocela tutta in questo periodo di prezzi che sono andati c'è stato diciamo un'altalena di prezzi che sono aumentati diminuiti velocemente ci sono state delle compagnie soprattutto le compagnie energetiche che hanno realizzato degli extra profitti e tramite quegli extra profitti il presidente Conte ha fatto una proposta concreta tramite quegli extra profitti noi li vogliamo subito reimmettere così come abbiamo fatto per il super bonus quando abbiamo reimmesso liquidità in circolazione in circolo anche in questo caso con quegli extra profitti li vogliamo recuperare li vogliamo tassare per poterli dare ai cittadini che in questo momento sono in difficoltà queste le proposte concrete ma parlando del arrivare prima al governo perché bisogna arrivarci prima al governo parliamo un attimo anche di questa legge elettorale siciliana che è una legge particolare è una legge che in buona sostanza premia l'effetto trascinamento per chi non fosse avvezzo a questa vicenda significa in buona sostanza che maggiore il numero delle liste dei candidati più facile per il candidato presidente essere eletto voi avete invece scelto di avere una sola lista una lista più la lista a supporto del nazionale perché questa è la prima volta che abbiamo 60 candidati più 30 candidati del nazionale i 18 degli nominali più i candidati del plurinominali però io faccio un ragionamento a voce alta che è un ragionamento spero concreto però giusto che è un ragionamento di parte nel 2018 noi con una sola lista qui in Sicilia raggiungiamo il 55% quindi noi nel 2018 quando c'è stato il voto per le nazionali quando ancora il Movimento 5 Stelle non aveva concretizzato nulla delle proposte che via via poi ha realizzato nei vari governi in questi ultimi quattro anni ora dico anche in quella fase nel 2018 il Movimento 5 Stelle aveva solo una lista e c'erano le coalizioni con più liste ricordo che i sondaggi davano tutti gli uniluminali persi e li davano al centro-destra gli ultimi sondaggi non avevamo nessuno uniluminale stiamo parlando del 2018 dopodiché tutti sappiamo quello che è successo con il Movimento 5 Stelle che ha fatto il cappotto qui a livello siciliano ebbene dico oggi noi abbiamo un'opportunità più unica che rara e da anni è successo l'ultima volta del 2008 che le elezioni regionali non andavano insieme con le elezioni nazionali ricordo pure che nelle ultime due anzi nelle ultime tre tornate elettorali gli ultimi tre presidenti della regione sono state elette col meno del 50% di affluenza questa è una data secondo me che sarà storica perché la prima volta che sono convinto negli ultimi 15 anni il presidente della regione verrà eletto con oltre il 60% di affluenza dei siciliani io sono convinto che con l'election day tutti questi partiti piccolini che oggi sono in coalizione e sembra che quindi aumentano il sostegno come dire l'effetto visivo sulla scheda che poi di questo si tratta l'effetto visivo sulla scheda io sono convinto che i siciliani faranno una grande scelta e andranno a votare con liberi liberi perché questo è importante ci sarà un voto d'opinione sul Movimento 5 Stelle e su Giuseppe Conte e io mi aspetto sorprese che ci riportano al 2018 quando non dico che ritorneremo a quel 55% però oggi a noi basta io di questo ne sono convinto visto i tanti candidati a presidente ci basta il 30% per vincere questa elezione quindi contate di vincerle questa elezione assolutamente sì noi ce la metteremo tutta stiamo mettendo l'entusiasmo stiamo mettendo la voglia i programmi e soprattutto stiamo mettendo la concretezza dico io mi giro a destra e sinistra ma non vedo i miei competitor cioè i miei competitor non ci sono io sono in giro per le città sto già iniziando un tour che mi vedrà come dicevo prima 4 eventi al giorno ma io i miei competitors non li vedo forse perché non stanno vivendo anche il disagio dei siciliani noi viviamo qua viviamo a Palermo viviamo a Gela viviamo nei territori siciliani e li viviamo ogni giorno io credo che la maggior parte dei competitors a presidente in questo momento vivono in città o luoghi ovattati e non stanno sentendo qual è il disagio e la voglia anche di cambiamento che hanno i siciliani che hanno già espresso negli anni passati ma con forze sono convinto che in questa tornata elettorale finalmente si darà la possibilità per la prima volta ad un governatore del Movimento 5 Stelle di guidare la Sicilia per i prossimi 5 anni c'è un candidato però tra i vostri competitor che sembra essere quello che era il Movimento 5 Stelle dieci anni fa di chi sto parlando? non voglio nemmeno nominarlo perché dico mi ricorda tanto lo dico io sto parlando di Cateno De Luca stiamo parlando evidentemente che urla moltissimo e che comunque nei territori ci sta guarda mi ricorda tanto un sindaco un ex sindaco che è già diventato presidente della regione e poi sappiamo benissimo quello che è successo in questi cinque anni io credo che i siciliani sono stanchi delle prime donne o dei primi uomini che poi si staccano dal territorio e si guardano allo specchio e dicono quanto sono bello o quanto sono bravo i siciliani l'hanno vissuto col presidente Musumeci lo hanno vissuto con Crocetta presidenti che si sono staccati dalla realtà e dai bisogni dei cittadini siciliani oggi è il momento di fare squadra oggi è il momento non delle offese perché accendere la telecamera di uno smartphone a me viene facile perché noi veniamo da quel mondo De Luca ha copiato ha copiato il Movimento 5 Stelle ma le offese oggi non servono a nulla magari ti porta qualche like in più all'interno di una diretta o all'interno del post anche se ora ho visto che è in declino anche sotto questo punto di vista e quindi sta alzando sta alzando i toni ma oggi è il momento di fare squadra di fare squadra sia con la parte politica sia con la parte amministrativa sia con i siciliani oggi abbiamo bisogno di un allenatore che porti avanti una squadra per i siciliani che possa spendere al meglio i fondi al PNRR fondi che sono stati guadagnati dal presidente Giuseppe Conte ed è un periodo sono degli anni cruciali per i prossimi 25-30 anni io parlo anche da giovane perché ho 40 anni e ho vissuto tutto quello che ha vissuto il mio spaccato di età generazionale ci sono tanti giovani che in questo momento non hanno speranza verso il futuro noi dobbiamo ridare la speranza nel futuro anche ai giovani che oggi magari sono emigrati sono fuori dalla Sicilia per motivi di lavoro o per motivi di studio ma questo lo possiamo fare solo se spendiamo al meglio quei soldi e non gli spendiamo quei soldi al meglio con le offese o con le parolacce dette nei social o cercando di essere gli uomini solo al comando o le donne solo al comando quei soldi li spendiamo al meglio se ascoltiamo se dialoghiamo e se concretizziamo nella maniera opportuna il Movimento 5 Stelle dunque è un bambino che è cresciuto è diventato più maturo assolutamente sì di anni ne ho 40 parlavo del Movimento non parlavo di voce di Paola in generale in questi anni secondo me il Movimento 5 Stelle ma anche grazie all'imprinting che sta andando il presidente Giuseppe Conte noi ci siamo dati uno statuto ci siamo dati una carta dei valori e ci siamo dati anche un'agenda un'agenda che pensa al sociale che pensa agli ultimi che pensa a tutte quelle persone che sono emarginati dalla società io sono convinto qui in Sicilia perché il Movimento 5 Stelle è il primo partito perché il Movimento 5 Stelle è qua più forte rispetto ad altre regioni del nord perché qui in Sicilia si vive un disagio enorme un disagio non dovuto al nostro clima che è bellissimo o al nostro carattere ai nostri modi di fare che da tutta Europa ci invidiano ma sul fatto che c'è poco lavoro sul fatto che negli anni noi abbiamo creato tantissime sacche non le ha creato il Movimento 5 Stelle le hanno creato i governi di centrodestra e di centrosinistra che si sono succeduti abbiamo creato tantissime sacche di precariato tantissime persone le categorie di precariato della regione siciliana sono tantissime penso agli ASO agli assistenti genico-personali agli RMI reddito minimo di inserimento ai PIP ai lavoratori della formazione professionale ai forestali tantissime categorie di precariato che abbiamo creato nel corso degli anni quando forse anziché quel bancomat politico bancomat elettorale che c'è adesso sulla sanità e c'era prima su tutto questo mondo di precariato che adesso non si può più fare anche per le leggi che si sono evolute forse bisognava fare e concretizzare quelle proposte che permettevano ai giovani di poter creare imprese queste è un'altra delle proposte che noi andremo a concretizzare noi a giovani dai 18 anni in su non dobbiamo dare gli accompagniamo Corriere di Cittadinanza da un lato a proposito i centri per l'impiego in questo momento sono fermi perché il governo Musumeci non ha attuato in maniera veloce il concorso e lo ha fatto solo ultimamente ci sono ancora 1200 persone che stanno aspettando lo ha fatto in campagna elettorale si poteva fare benissimo prima soldi che ha messo il governo Conte io questo ci tengo a sottolineare e questo concorso poteva essere fatto anche tre anni fa e invece abbiamo impiegato tre anni per fare un concorso per 1200 persone per potenziare i centri per l'impiego noi dobbiamo dare ai giovani già dai 18 anni in su un accompagnamento subito che può essere di Cittadinanza ma dobbiamo dare la regione deve dare la possibilità con degli incentivi e non con i tirocini di 500 euro al mese nelle aziende che poi le aziende manca assumono ma di creare l'autoimprenditorialità perché io vedo giovani che sono creativi giovani che hanno voglia di fare allora la Sicilia si può mettere accanto a questi giovani e può dare loro una speranza perché io sono convinto se ad ogni giovane diamo una speranza quella speranza nella maggior parte dei casi poi viene concretizzata grazie a Nuscio Di Paola per averci raccontato quelle che sono le idee del Movimento 5 Stelle per la Sicilia e questa speranza che non è soltanto quella delle giovani ma è anche la loro di fare un risultato molto importante ne sono convinti e grazie soprattutto a voi che ci avete seguito e che naturalmente continueremo a sentire tutti i candidati alla presidenza della regione per offrirvi l'opportunità di scegliere quello che è più vicino a voi grazie a tutti al prossimo Talk Sicilia Grazie a tutti